Direi che il bilancio è stato tutto sommato buono, ho avuto qualche giornata un po' difficile, soprattutto dopo il riposo, nella tappa di Montalcino dove praticamente ho avuto la mia giornata di crisi, però tutto sommato adesso nelle ultime due o tre giornate di montagna ho ritrovato delle buone sensazioni, quindi proviamo a tenere duro giorno per giorno, abbiamo avanti comunque ancora tre tappe diciamo veramente dure di montagna, quindi niente, bisogna tenere duro e lottare fino alla fine. L'obiettivo magari sarà recuperare un po' bene giorno a giorno e provare in questi tre giorni, perché no, a scavalcare qualche posizione. Già nelle ultime due tappe dure, sia sullo Zoncolan che ieri, ho corso abbastanza in maniera intelligente, nel senso che ho capito che comunque Bernal ha una marcia in più, ho capito che seguirlo per me mi manda solo un po' fuori i giri, quindi preferisco trovare il mio ritmo, continuare il mio passo e poi difendermi piuttosto che attaccare.